Ha sido un periodo difficile perché ha 16 anni e l'ambiente del nuoto non era proprio pronto ecco quindi ho dovuto fare un lavoro su me stesso non indifferente però sono molto contento comunque di aver avuto di fianco le due persone più importanti per me che sono la mia famiglia che mi hanno molto aiutato in questo cosa non da poco Non ho incontrato molto odio soltanto, ho incontrato molte difficoltà per l'entrenamento, per la competizione e per l'ambiente adesso le cose sono un pochino cambiate certo mi sarebbe piaciuto avere una spalla in più un sostegno, diciamo delle persone con le quali condividere tutto a 360 gradi questo non era possibile La situazione in Italia non è sicuramente come in Spagna ecco in Italia si tende magari a cercare di voler dire il meno possibile per paura che, per paura di e questa è una cosa che mi dispiace, sono ottimista, vedo che si va a rilento ancora Ho partecipato quest'anno all'edizione italiana di Dancing with the Stars Italy Ballando con le stelle ho avuto l'opportunità di farlo con un ragazzo e insieme abbiamo fatto secondo me una grande cosa inizialmente faceva notizia questa cosa, dopo è diventata una cosa normale anche se ci sono sempre tante persone che purtroppo ancora hanno bisogno di... per le quali non è del tutto accettato però sono molto di meno Quando partecipi per esempio a questo programma sai che qualunque cosa tu vai a fare la vedono tante persone e c'è la possibilità che questo pubblico si amplifichi sempre di più hai una responsabilità, sotto un certo punto di vista io ho cercato di essere me stesso più me stesso possibile, senza troppi filtri che magari mettevo all'inizio poi però viene fuori quello che sei realmente e questo è il bello anche secondo me da un certo punto di vista se io con questo percorso di tre mesi posso aver aiutato anche solo una persona ne sono felice, era l'obiettivo Hola, soy Alex Di Giorgio, gli chiedo a mandare un beso grande e un saluto a todos los amigos de Shanghai Grazie